1, 2, 3, 4, 5, potete fare qualsiasi cosa, toccarlo, dagli un calcio, parliamo di Audio Research, l'LS2. Ciao a tutti da Davide di Audio Costruzioni, questa è la video vendita di aprile 2022. Intanto per chi non ci conosce, Audio Costruzioni è un negozio di Hi-Fi, un Hi-Fi Shop, no? Nuovo, usato, cavi, cavetteria, ritiriamo l'usato, vendiamo il nuovo, insomma, cerchiamo di venire incontro alle esigenze dei clienti al 100%. Allora, partiamo subito e andiamo a vedere. TORES TD 190, bello, automatico, ha avuto un problema con l'alimentatore, l'abbiamo sostituito, quindi 33, 45, 78 giri, completamente automatico, parliamo di 250 euro, prodotto molto molto a posto. Poi abbiamo questa coppia di diffusori che devo ancora fargli il prezzo e chi li conosce, vi prego di magari mandarmi qualche feedback, sono queste Audio Vision B90 che sono veramente bellissime esteticamente, tutte in massello, molto molto carine e devo dire che suonano anche bene e solo che non ho trovato tante informazioni in giro. Reflex posteriore, come dicevo, Audio Vision B90, se ci date una mano a capire di cosa si tratta, ve ne saremmo molto molto grati. Le giro, continua la promozione delle GBL, sono l'ultima serie, le 3006 dico bene, a 3400 euro che è un prezzone, ma abbiamo ancora un pochino di spazio, quindi penso di riuscire a fare ancora meglio, chiedete e vi sarà dato. Poi dopo andiamo avanti, va bene, nella solita serie abbiamo una coppia di Sonos Faber, le nuove, ultimissime uscite, 9.2 Xdemo, a un prezzone incredibile e una coppia di B.E.V. 803 S a 4300 euro. Queste sono il classico B.E.V. Naturalmente adesso ci sono le D, ok, le D3 e D4, ma anche queste suonano veramente molto ma molto bene. Poi andiamo avanti. Qui troviamo un bel MA9000 della Macintosh, 300 watt, equalizzatore a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bande, entrata fono, entrata digitale, una macchina veramente completissima, una macchina che si compra una volta nella vita e come le cose belle, le cose blasonate, rimane anche molto in prezzo. Chiediamo poco sopra i 9.000 euro. 9.900 euro. 9.900 euro, grazie Teo della precisazione. È veramente stupenda, qui si compra una macchina eterna. Andiamo sotto. Continua il successo della Tessa, della Roxanne. Ne fanno due modelli, parli di prodotti nuovi in questo caso, la Tessa normale e la Tessa streamer. Soprattutto lo streamer lo stiamo vendendo benissimo. È piuttosto potente perché parliamo di quasi un centinaio di watt e soprattutto tutti quei servizi streamer, radio internet, Tidal, Spotify e chi più ne ha più ne ha emetta, è soprattutto un grande suono. Roxanne ha fatto, cioè diciamo, da poco entrata in un gruppo, in un fondo molto molto importante, quindi la tecnologia ha veramente fatto un passo in avanti e sono prodotti, come posso dire, che suonano caldi, suonano bene, ma con un certo dettaglio. Ma andiamo con della roba un pochino più vintage. Questo è stupendo. Parliamo di Macintosh. È il Sintopre, l'MX110. Direi che trovarlo in queste condizioni è quasi impossibile. È la serie più bella che mi dicevano la serie X, non lo so. La Z. La Z, scusa, bravo, Teo. Questo trovate il... Tra qualche giorno lo metto sul sito e troverete il prezzo. Però, così come è, non lo riuscite a trovare sul mercato, perché è emesso benissimo. Andiamo un pochino più sotto. Troviamo un Cambridge Audio, un CX80, che è un integratino molto molto interessante. C'era il 60 e l'80, adesso c'è il 61 e l'81. 80 Watt, entrata digitale di qualità. Quindi abbiamo un DAC all'interno veramente buono. Suono molto lineare, classico inglese, veramente bellissimo. Di giradischi ne abbiamo un sacco. Soprattutto vintage, che a me piacciono da matti. Come vedete, come quel Denon lì a 6,30. Poi, se venite qua, come sempre, cerchiamo di trattare bene i clienti e fare dei bei prezzi, insomma, venirvi incontro. E di fianco ne troviamo un altro, un altro Denon, una 4,60, sempre molto molto interessante. Torniamo sempre qua sul vintage. Troviamo una bella accoppiata pre-finale, il C34, anche questo con l'equalizzatore. È un pre della Macintosh, veramente interessante, a 1.950. E il suo finale, il 2255, 250 Watt, 3.800 euro. Occhioni blu, V-meter, trasformatori d'uscita, condizioni veramente ottime. Guardate il cristallo, com'è messo bene. Praticamente, le bolle le troviamo solo qua, ma non si notano quasi neanche. Addirittura, nel pre, nessuna bolla. Abbiamo anche un altro, sempre prodotto simile, il 7270, che addirittura è 270 Watt, con i trasformatori d'uscita, a 3.700 euro. Anche questo, in condizioni veramente favolose. Ma andiamo un pochino più sotto. Un altro pre, molto molto interessante, questo è un conto vendita dell'amico Mauro, è un C42, che però, ahimè, devo ancora fargli il prezzo. Lo trovate tra qualche giorno sul sito. Molto bene, andiamo avanti. Finalmente abbiamo finito l'acoustic solid. C'erano alcune cose da mettere a posto alla tastiera, l'abbiamo sistemata, il braccio, ho fatto il, come si dice, il portabraccio in acciaio, braccio rega RB300, testina van denul, vedete, questo è stupendo. Filippo ci ha fatto un video anche particolare, dove faceva vedere il funzionamento, lo trovate sul nostro canale Facebook, una macchina da guerra. Praticamente, a parte il peso, che sarà, non so, 50 chili, questo, mentre che va, potete fare qualsiasi cosa, toccarlo, dagli un calcio, quello che volete, non si muove. 3.400 euro circa, comunque il prezzo, diciamo, definitivo, lo trovate sul sito. Andiamo a vedere un po' in questo reparto. Qua abbiamo il pre-finale Faceliner, che, ahimè, io pensavo sinceramente di venderli prima, perché sono veramente molto carini, americani, V-meter, un sacco di corrente. Li abbiamo fuori a 1.480 euro, però, visto che sono lì da un po', se volete fare la vostra proposta, io penso di riuscire ad arrivare tranquillamente a 1.200 euro. Marantz 10.30 della Mico Gimignano in conto vendita, dobbiamo ancora apprezzarlo, ma di solito vanno fuori a 280, 270 euro, questo è un piccolo capolavoro. Sotto un piccolo amplificatore della Technics, di solito quelli lì li vendiamo attorno ai 150 euro, e questo invece è una chicca, perché è un Cambridge Audio, il 5e40, l'ho già apprezzato sul sito, è un bel integrato proprio classico stile inglese. Ancora più sotto, se volete un finale italiano, che suona bene, perché è audio analog, ditta italiana, di Monsumano Terme, che lavora come si deve, il Doninzetti 100, è un finale che suona in maniera stupenda, ok? E siamo circa a 1.000 euro di richiesta. Sotto troviamo un sito ampli della Onchio, economico, ma molto molto interessante, saremo attorno ai 200 euro. Ma andiamo qua, e torniamo sempre un po' sul vintage, perché penso di avere delle cose che al momento abbiamo solo noi. Macintosh 2e40, l'MC240, introvabile, 110 volt, condizioni veramente ottime, naturalmente è una macchina che ha i suoi anni, però è stupenda. La richiesta è 3.500, però la tratto, perché era un conto vendita, abbiamo acquistato il blocco, ora ho più spazio da lavorare, quindi se volete farvi la vostra offerta su questo stupendo finale, volentieri posso valutare anche prezzi leggermente minori, però è messo veramente bene. Ancora più sotto troviamo due finali della Macintosh, il 7200 a 1.300 euro e il 150, dico bene, MC150 a 2.650, anche lì leggermente trattabili. Ecco, un pochino più a destra troviamo un MC275, che mi pare la quarta serie, se dico bene. Ok, 4.100, anche lì trattabili, ma quello è a 2.20 ed è in condizioni favolose. L'audio analo fortissimo, hai detto che l'abbiamo già venduto. Sotto abbiamo un, sopra, scusate, abbiamo un Oppo 105. L'Oppo purtroppo non produce più questi, si è buttato sui telefonini, ma fa lettori CD, DVD, SACD, che sono una meraviglia. Lo devo ancora apprezzare, ma questo è un prodotto, un all-in-one, diciamo che comprando questo si ha un po' tutto e veramente fa tutto. Scusi una domanda, Teo, ma fa anche il Blu-ray? Sì. Addirittura, quindi si ha una macchina. Fa anche gli SACD. SACD, quindi macchina completissima, vedete, con l'USB davanti e anche l'HDMI. Ancora più a destra, quello è ancora più introvabile. Macintosh 2.25, valvolato RCA originali NOS, 3.500, anche lì trattabili, perché anche questo ora è diventato nostro. Dietro vedete anche la sua copertura, ok? Il prodotto che ha fatto la storia della Macintosh, questo qua, acquistato direttamente negli Stati Uniti dall'amico Daniele, da Gordon Gough, che era il socio del signor Macintosh. Andiamo ancora più sotto. Questo è un prodotto particolare che mi piange il cuore venderlo. è un finale da 200 Watt senza i trasformatori d'uscita, ok? L'MC 2002, che non ha avuto tanto successo commerciale, ma suona che è una meraviglia. È tenuto benissimo e, guardate, è stupendo. Gli occhioni blu si illuminano in una maniera strepitosa. Parliamo di 3.200 euro, anche lì molto, molto trattabili. E sotto andiamo con un C32 a 110 Volt, come quello sopra, ma noi forniamo anche l'alimentatore, a 1950 euro. Anche questo è un bel pre con l'entrata Fono e l'equalizzatore. E direi che qui per adesso abbiamo, non dico finito, però insomma siamo a buon punto. Andiamo a vedere qua di dietro, che c'è sempre qualcosa di molto, molto interessante. Master Sound Box X, questo qua, è un integrato con l'L34 in classe A, suona benissimo, ditta italiana, 1.500 euro. PS Audio, un piccolo pre a valvole, ma molto, molto carino, 320 euro. Qui, per chi vuole provare qualcosa a valvole senza svenarsi, un bel pre. Tra l'altro monta le valvole SIS N7, che sono valvole ottime per il pre, perché hanno un grado di pilotaggio, come posso dire, molto strong, molto forte, insomma. E quindi riescono a pilotare anche dei finali difficili. Copeland CSA14, l'ibrido della Copeland, 70 watt, molto, molto interessante. Mi pare circa 800 euro. Tutti i prezzi comunque li trovate sul sito. Se volete un classe A, ok, single-ended, che suona bene, questo Avravox qua, è un made in Cina, ma costruito come si deve. Guardate, è veramente strutturato bene, a 5,90. Qui abbiamo una decina di watt in classe A, che suona proprio bene, 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 bene. Sono arrivati ieri, li dobbiamo ancora apprezzare. Li vendo insieme, perché è una copiata principe, che suona veramente molto, molto bene. Parliamo di Audio Research, l'LS2, con il suo finale, il D240, che è un finale da 120 watt, se non vado errato, a transistor, che suona benissimo. Poi, 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 ecco, questi DBX qua non hanno avuto successo, o meglio, ce li avete chiesti poco. Ecco, ma sono macchine che suonano veramente bene, dinamiche, V-meter stupendi, si illuminano bene, pre-fono, guardate, veramente belle, belle macchine. Siamo attorno, poco sotto i mille euro, queste qua sono, sono macchine incredibili, che suonano bene, bene, bene. Andiamo qua di fianco, abbiamo un Soprano, della Synthesis, ditta italiana. Questo ha la particolarità di avere le L84, 12 watt, mi pare, esattamente, che sembrano pochi, ma per un valvolare non sono per niente male, ma soprattutto, entrata USB, entrata Fono, telecomando, 950 euro, sembra uscito di fabbrica. Ah, qua, 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 questo ve lo voglio far vedere. Aloia, il pre, è il PS 11.1, non è che ce l'avevamo fermato, no, è l'11.01, teo che ci leggi forse meglio di me, ok? È un pre a due telai, dovete sapere che Aloia lavora con l'alimentazione, penso, spero di non dire un'asinata, ad induzione, cioè è un modo di fare l'alimentazione molto sofisticato, molto costoso, che dà, come posso dire, un aiuto all'alimentazione del pre che è veramente importante, cioè è un'alimentazione di altissimo livello, 1200 euro. Prodotto italiano, Lauda SX 2004, a 950, un conto vendita, e ancora più sopra abbiamo un Giradischi, il Troubadour, che adesso li vedete 1250, ma l'ho abbassato, perciò sul sito lo trovate a un prezzo molto, molto interessante. GBL, qua non si sbaglia mai, 4312A, sono ottenute bene, ne avevamo due coppie, la prima l'abbiamo già venduta, 1250 euro, direi che sono stupende. Stupende. Ultima cosa, anche se te obifacchie, comunque queste sono belle, le BEV, sono le, vedete qua, le CDM7NT, siamo a toni 900 euro, queste qua sono la serie prima della serie 7, veramente molto molto interessante. Finiamo la prima parte di aprile, presto faremo la seconda parte, ricordate che siamo uno shop anche online, www.audiocostruzioni.com commerciamo, vendiamo, acquistiamo, barattiamo, insomma, cerchiamo di venire, diciamo, di aiutare il cliente, siamo qua disponibili per fargli ascoltare le cose, portate i vostri CD, venite a ascoltare quello che vi interessa, un ciao da Davide e Matteo e Filippo di Audiocostruzioni.